Siamo molto contenti di avere oggi ospite tra di noi Gianfranco Marrone, professore ordinario di semiotica presso l'Università di Palermo, autore di molti libri, molti volumi, molti studi. Oggi abbiamo l'occasione di parlare appunto con Gianfranco del dibattito sulla natura e di come stanno cambiando le idee di natura oggi. Vedi, io penso che certo nel corso dei secoli è cambiata la concezione della natura, ma nel corso degli ultimi 20 o 30 anni è cambiata veramente tanto. Io direi che si è quasi ribaltata. Per secoli o per millenni, direi, nella cultura occidentale naturalmente, la natura è sempre stata per noi qualcosa contro la quale andare. Il famoso concetto di progresso, di civiltà, di civilizzazione, comunque lo vogliamo chiamare, è sempre stato qualcosa per cui l'uomo doveva combattere contro la natura per liberarsi dai limiti o dai fastidi, basti pensare alle malattie per esempio, che la natura ci impone, impone al nostro corpo, impone alla nostra società. E beh, sappiamo tutti che non è più così. La natura non è più il nemico, non è più l'avversario, al contrario è diventato neanche l'amico, ma è diventato uno spazio, un oggetto, un attore, diciamo così, sociale da coccolare, da proteggere. E ci troviamo nella condizione di essere noi a dovere combattere contro altri uomini per difendere una natura che sta progressivamente sparente. Senti, la nozione di antropocene, secondo te, può spiegare questo tipo di cambiamento oppure può essere un'occasione per annullare ancora di più, cambiare ancora di più la nostra concezione di natura? Assolutamente sì, l'antropocene è esattamente il concetto che in qualche modo ripensa tutto questo, perché parla addirittura di una nuova era geologica, non soltanto un'epoca storica, ma un'era geologica, un'epoca in cui la relazione uomo-natura è completamente cambiata, ma è cambiata soprattutto la natura stessa, che non è più un regno separato rispetto all'uomo, col quale l'uomo agisce e interagisce in maniera appunto conflittuale o contrattuale, ma è diventato un unicum. I cambiamenti climatici, le trasformazioni del mondo, le trasformazioni del mondo naturale, in qualche modo sono arrivate a un punto tale, a causa dell'intervento umano, da non poter più tornare indietro. Quindi adesso, se vogliamo, in qualche modo, grazie a questo concetto di antropocene, pensare alla natura, dobbiamo pensare al plurale e al futuro, e non più al passato, in maniera nostalgica, ma in maniera progettuale. Senti, nelle ultime elezioni bavaresi c'è stato un rientro dei verdi inaspettato, secondo alcuni, però ovviamente i movimenti ambientalisti e i partiti verdi hanno fatto parte della storia politica dell'ultimo quarto del secolo ventesimo, probabilmente. Alla fine di Addio alla Natura, tu insieme ad altri autori, sollevi delle critiche all'ecologismo, ma nonostante tutto pensi che ci sia una via per l'ecologismo, ci sia una nicchia, una prospettiva, un punto di vista ecologista. Ci puoi dire qualcosa su questo, sul tipo di approccio che tu... Questo è un po' un paradosso, perché da un lato gli ambientalisti o gli ecologisti o i verdi, come vogliamo chiamarli, hanno introdotto in maniera anche forzosa e forzata, e quindi sono riusciti a introdurre all'interno dell'agenda politica la questione dell'ambiente. Ma, come dicono molti autori, non sono certamente io l'unico a pensarlo, penso a Bruno Latour, o a tanti altri di cui tu parli nel tuo libro, hanno rilevato il fatto che gli ambientalisti molto spesso, pur parlando in nome della natura, hanno della natura una concezione molto ingenua, cioè molto, come dire, irriflessa, non pensata. La pensano ancora come un'entità separata rispetto all'uomo, come un'evidenza, e invece dovrebbero pensarla probabilmente in maniera politica, cioè in maniera progettuale. Pensare alla natura che vogliamo significa pensare alla società che vogliamo. Senti, Gioffar, un tema molto interessante che è emerso ieri, a margine della tua lezione qui in Lewis, aveva a che fare con la prospettiva della semiotica, su questa idea delle nature, quindi anche delle retoriche della natura. Tu hai parlato anche del riemergere, forse, di forme di animismo in questo contesto contemporaneo che noi stiamo cercando di affrontare. Possiamo tornare un attimo su quel tema? Grazie, è una bella questione, perché da un lato la nostra cultura attuale, la cosiddetta modernità, è sicuramente una cultura permeata dal naturalismo, cioè da una forma di pensiero che pensa alla natura come il mondo dei non umani, come il mondo che in qualche modo esiste a prescindere dall'uomo. E la cultura, o se vogliamo le culture, come tutto ciò che si distacca da questa specie di realtà naturale, biologica, cerebrale, comune. Dall'altro lato però all'interno della nostra cultura riemergono, in maniera anche abbastanza evidente, anche abbastanza forte, ma appunto in maniera irriflesse, in maniera non, secondo me, sufficientemente pensata, delle forme di animismo molto forte. Il caso più evidente è quello del, diciamo così, di tutto ciò a che fare con il mondo animale, col fatto che gli animali progressivamente non si separano più in domestici e selvatici, come si faceva un tempo, ma sono ripensati all'interno di una prospettiva ecosociale più ampia. Basti pensare a tutto il problema, a tutto il dibattito circa i diritti degli animali, circa il fatto che anche loro abbiano una forma di sofferenza, di pensiero, di sentimento sicuramente, basti pensare a tutto il problema dell'animalismo, che è un problema delicato, o al problema del veganesimo, e sappiamo non solo quanto si sta espandendo questo fenomeno, ma quanto stanno nascendo dei conflitti molto forti, i vegani, ci sono tanti tipi, ma diciamo ci sono anche delle forme di veganesimo per esempio molto violento e molto radicale, in cui molti dicono per esempio meglio gli animali che tanti uomini. Quindi questo in qualche modo, al di là di quello che ognuno di noi vuole e può pensare, è sicuramente un fenomeno nuovo che ripropone in termini animisti la questione del non umano. Stessa cosa sta nascendo oggi a proposito delle piante e lì diventa ancora più problematico. Un'ultima domanda che ti volevo fare riguarda un passaggio della tua lezione di ieri, in cui tu hai detto in modo un po' provocatorio il multinaturalismo, prima di essere una questione di tipo filosofico, ha a che fare con la nostra realtà di consumatori al supermercato, citando anche uno studio di pochi anni fa che tu avevi portato avanti sul modo in cui sta cambiando il packaging dei prodotti alimentari, come la natura entra nella confezione dei prodotti che noi consumiamo e come questo impatta sulle nostre scelte. Sì, era provocatorio giustamente proprio perché i filosofi, gli scrittori, i saggisti hanno oramai da parecchio tempo stanno riflettendo sulla questione. Dall'altro lato però c'è chi sta al fronte, c'è chi si trova a dover prendere delle decisioni a prescindere da quelli che sono i dubbi, le problematiche della questione, nel momento in cui il concetto per esempio di biologico diventa una specie di valore generalizzato che si può applicare pressoché a tutte le merci o i servizi, scatta il problema di differenziarlo in un mercato concorrenziale, quindi si pone il problema di capire che tipo di effetto di natura direbbero i semiologi, cioè in che modo il discorso, la comunicazione, la prospettiva della significazione crea degli effetti di naturalità tali che il consumatore dice che è così, questa è una cosa biologica. E allora il problema è perché quel biscotto lì è più biologico di un altro? E lì scatta tutta la questione della comunicazione, cioè come creare questi effetti di natura e dunque viene fuori l'idea, neanche l'idea, la pratica, che di natura ce ne sono tante.